Della serie, potevate almeno informarci? Parte da questo assunto la richiesta di chiarimento di Giovanni Maettini, presidente della Commissione Centro Storico di Confcommercio, che a fronte del taglio di circa il 50% delle corse dei mezzi clap verso il Centro Storico, aspetta un confronto con l'assessore Pierotti riguardo le strategie che il Comune di Lucca intende attuare per dare nuova vitalità alla città. A tale proposito Maettini si dice dispiaciuto che certe decisioni così importanti per il futuro della città vengano prese senza consultare le associazioni di categoria, ovvero i rappresentanti di chi la città la vive ogni giorno. Per il presidente della Commissione Centro Storico la situazione è preoccupante perché nonostante le numerose richieste di aiuto e gli allarmi lanciati, la moria di negozi che è sotto gli occhi di tutti, non solo non si vedono strategie di rilancio adeguate, ma anzi al contrario sono costretti a leggere notizie che vanno in direzione diametralmente opposta. Ecco perché termina Maettini chiederemo un incontro al sindaco Tambellini e all'assessore Pierotti in modo da poter affrontare assieme le tante questioni sul tavolo.